Come ormai consuetudine, ottobre di ogni anno è il mese in cui DSM Store inizia il proprio concorso fotografico. Siamo giunti alla quinta edizione, tante le immagini che negli anni sono state pubblicate e hanno partecipato al nostro evento, bellissime, fantastiche, ognuna che rappresentava qualcosa per l'autore dello scatto che ce l'ha proposta. Siamo giunti alla quinta edizione grazie al vostro supporto, al fatto che in molti ci spronate e spesso ci chiedete di riproporre questo tipo di evento che è ormai diventato un must nel pianeta del carfishing. Come sempre nulla è dovuto, l'iscrizione è totalmente gratuita, bellissimi premi offerti da DSM Store in palio ai primi 5 classificati. All'interno di un page della pagina evento troverete un breve scritto in cui è messo nero su bianco tutto il regolamento e lo svolgersi dell'evento stesso. Evitiamo discussioni, ce ne sono state in passato semplicemente perché alcuni partecipanti non sono stati attenti o comunque non hanno avuto l'accortezza di andarsi a leggere il regolamento. Molto semplice, si sviluppa in due fasi che vi vado brevemente a riassumere. Fino al 21 dicembre tutte le foto partecipanti verranno messe in classifica in base al numero di like che avranno ricevuto. Le prime 20 entreranno nella finale. Dal 21 dicembre al 31 dicembre, giornata in cui vi comunicheremo la classifica definitiva, le 20 foto finaliste verranno valutate da una giuria composta da 5 giudici. Il numero dei giudici li trova all'interno del regolamento stesso. Alle 20 foto verrà assegnato un punteggio da parte di ognuno e la somma di questi punteggi decreterà poi la classifica finale. È un gioco, cerchiamo di essere più conviviali possibile. Si tratta di passione, si tratta di pesca. Evitiamo problemi e godiamoci appieno gli scatti che tutti ci hanno inviato. Alcuni veramente magnifici, spettacolari, che trasmettono emozioni a chi li osserva come se fossimo stati lì in quel preciso momento. Partecipate in tanti, a questo punto siamo già oltre i 70 iscritti e probabilmente quest'anno andremo a fare il record di iscrizioni perché siamo all'inizio, a metà ottobre, già abbiamo un numero molto elevato di iscritti e sicuramente passeremo i 110-120 scatti partecipanti. Vi aspettiamo, totalmente gratuito, DSM Store, quinto concorso fotografico. Grazie.